Musica Queste le previsioni meteo per mercoledì 1 maggio Di notte e al mattino il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto su buona parte della regione fatta eccezione per il versante tirrenico e per la Sicilia sud orientale dove si assisterà alla presenza di minor nuvolosità In tale contesto precipitazioni di debole e moderata intensità mista al polviscolo sariano interesseranno buona parte del territorio regionale Tali fenomeni potranno localmente anche assumere carattere di rovescio temporale Ampie schiarite a partire dalla Sicilia occidentale nel corso della seconda parte della giornata Farà eccezione il messinese tirrenico ove invece si assisterà ad un graduale incremento della copertura nuvolosa Le temperature saranno in lieve diminuzione specie sulla Sicilia occidentale Venti prevalentemente deboli o moderati da scirocco di notte e al mattino In seguito la ventilazione si disporrà dai quadranti occidentali con intensità debole o localmente moderata A sera il vento si presenterà molto debole da direzione variabile o sarà assente Saranno possibili raffiche fino a burrasca o burrasca forte lungo il versante tirrenico specie nel corso della prima parte del giorno Mari tra poco mosso e mosso il tirreno mossi gli altri bacini molto mosso localmente e a tratti lo stretto di Sicilia Queste previsioni sono fornite grazie alla collaborazione con il Centro Meteorologico Siciliano Sigle a cura di AP Web Radio e in Social TV